Dottor Scella, una nuova strumentazione diagnostica per quali scopi? Come ha già detto il Presidente Massilio, questa è una macchina che intanto va inserita nel percorso sospetto Covid perché chiaramente noi abbiamo la diagnostica cosiddetta dal tampone PCR che ha bisogno di ore per non dire l'altro giorno chiaramente ci basiamo sempre di più sulla diagnostica clinica che appunto l'attacca al polmone e purtroppo anche negli ultimi giorni qui a Vasta abbiamo visto 7 persone di sospetto Covid tutte con un polmonito in corso per cui questa è una risposta immediata perché dall'ingresso in pronto soccorso fino alle diagnosi passano 20-30 minuti Ci sono posti sufficienti attualmente per accogliere nell'ospedale di Vasta i malati Covid? Noi abbiamo in questo momento una pressione su tutta la rete ospedaliera chiaramente noi la rianimazione la facciamo congiuntamente con Pescara e Covid ospedale di Pescara abbiamo circa 150 pazienti positivi ricoverati con 800 positivi sul territorio abbiamo convertito tanti reparti del Policlinico di Chieti da medicina a medicina Covid non bastano i posti di malattie infettive tra Chieti e Vasto per cui anche qui abbiamo dovuto all'agar di quattro posti di malattie infettive e se questa pressione sulle ospedali continua chiaramente siamo costretti a rimodulare eventualmente anche posti di chirurgia in posti di medicina Covid Francesco Menna, sindaco di Vasto allora l'inaugurazione dell'attacca qui all'ospedale San Pio da Pietrelcina inverte un po' la tendenza lei aveva sempre protestato, polemizzato sul fatto che l'ospedale venisse svuotato delle sue funzioni adesso? è un attacca importante io ringrazio di cuore i donatori cioè coloro i quali hanno donato risorse finanziarie a favore dell'ospedale di Vasto ne ricordo tanti hanno raccolto tanti soldi e questi soldi sono trasformati in questa tacca grazie a loro, grazie naturalmente alla dirigenza sanitaria, alla dirigenza politica e al reparto che fa tanto è un segno importante perché Vasto essendo città di confine raccoglie anche la mobilità extra regione, cioè dal Molise è proprio per questo che di qui arrivano le richieste del sindaco di potenziare l'ospedale io mi auguro che a breve partano i lavori per ristrutturare i due reparti che stanno vivendo una ferita dovuta ai crolli di chirurgia e punto nascita mi auguro che quanto prima arrivano ulteriori risorse affinché Vasto viva il suo vero ruolo la sua vera dimensione sanitaria, cioè di città di confine che assorbe non solo il bacino abruzzese di appartenenza ma anche il bacino molisano e perché no l'alta Puglia è per questo che chiediamo attenzione perché la meritiamo nei servizi sanitari e anche negli altri C'è anche il discorso però relativo alla prevenzione dei comportamenti sbagliati ci sono sufficienti controlli sul territorio a Vasto? I controlli ci sono da parte della Forza dell'Ordina al 20 ottobre ci sono stati circa 600 controlli su attività commerciali in provincia di Chieti questi controlli hanno dato risultanze di grande collaborazione da parte degli operatori economici ci sono stati invece circa 3200 controlli al 20 ottobre su persone fisiche e lì ci sono state sanzioni di diversa natura le Forze dell'Ordine stanno operando anche grazie al gigantesco lavoro della Prefettura io credo che però non è la questione delle sanzioni che deve prevalere ma è la questione della responsabilità della consapevolezza, della collaborazione da parte di tutti la collaborazione, la condotta uniforme a quello che prevede il DPCM l'uso della mascherina, della distanza, della muchina delle condotte di prevenzione che ben si conoscono ci aiutano a non riempire gli ospedali perché se si riempiono gli ospedali di malati Covid inizia a soffrire il sistema sanitario e il Paese scienza, fede, classe dirigente, politica, classe dirigente, amministrativa la collaborazione dei cittadini ci faranno superare questo momento difficile